Un incendio di natura verosibilmente dolosa ha distrutto la spiaggia di Caolonia Marina in una barca a vela che l'autunno scorso si era arenata con a bordo una cinquantina di migranti sul tratto di spiaggia della cittadina della Locride. A bordo dell'imbarcazione a settembre erano giunti profughi di varie nazionità, soccorsi a diverse miglia di distanza dalla costa calabrese, dalla guardia costiera e successivamente condotti fin dentro il porto di Roccella Ionica, a bordo di una delle motovedette della Capiteneria di Porto. Sul luogo dell'incendio si sono ricati i carabinieri e anche i vigili del fuoco. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri. L'imbarcazione utilizzata dai migranti e arenastasi a Caolonia Marina era in attesa di un provvedimento di demolizione da parte delle autorità competenti.